Cari amici roditori, benvenuti nel mondo di Geronimo Stilton. In seguimento a New York. Natale è sempre un momento speciale. Era inverno e a Topazia, la capitale dell'isola dei topi, nevicava. Quella sera, seduto alla scrivania, fissavo i candidi fiocchi di neve turbinare dietro la finestra, trascinati dal vento. Che inverno, quell'inverno! Avevo come l'impressione che sarebbe durato per sempre. Per fortuna, mancavano pochi giorni a Natale. Ah, il Natale! Che bello potersi riunire, insieme a parenti ed amici, per festeggiare insieme, scambiandosi il dono più prezioso, l'amore. Squeeet! Era già ora di pensare al menù del pranzo natalizio. A come addobbare casa mia. Ai regali per piccoli e grandi. Sognando a occhi aperti. Mentre sognavo a occhi aperti il Natale e la magica atmosfera che porta con sé, la porta si spalancò ed entrò mio nonno, torcuato tra volgiratti, detto Panzer. Lui mi urlò sul muso. Sveglia! Sveglia! Nipote, che fai? Sogni a occhi aperti. Io sobalzai e balbettai confuso. Io no! Cioè, sì! Voglio dire, in un certo senso, che cosa intendi per sogno? Veramente io non... Cioè, purtroppo sì! O magari per fortuna! Insomma, tra poco è Natale! E in effetti, a essere sincero, stavo proprio sognando a occhi aperti. Lui tuonò. Anche se tra poco è Natale. Questo non è un buon motivo per dormire in piedi. Sveglia! Ti voglio più dinamico, nipote! Più scattante! Uno, due! Uno, due! Uno, due! Poi mi indicò un cartello appeso alla parete. Il topo saggio non spreca né tempo né formaggio. Poi il nonno mi batte l'indice sulla fronte. Toc, toc! C'è nessuno qui dentro! Prese il telefono e chiamò Pepperisa, una cara amica che lavora in redazione. Signora, mandi un messaggio a tutti i collaboratori dell'eco del roditore. Il topo saggio non spreca né tempo né formaggio. Firmato, torquato, travolgiratti! Io sospirai. Tranquillo, nonno. Anche se non firmi, capirebbero comunque che è un tuo messaggio. Lui sbuffò. Ah, se non tornassi qui io di tanto in tanto a controllare come vanno le cose! Poi gridò eccitato. A proposito, sai che cos'ero venuto a dirti? Che ho avuto un'idea! Modestamente, io ho sempre idee geniali! Io mormorai preoccupato. Hai avuto un'idea geniale? Ai ai ai! Io sono sempre preoccupato quando mio nonno ha idee geniali! Lui proseguì. Ecco l'idea! Quest'anno tutta la famiglia Stilton passerà il Natale! Fece una pausa. Poi, con tutta l'energia che aveva, urlò a squarciagola. A New York! New York? Perché New York? Io ripetei. New York? Perché proprio a New York, nonno? Lui mi strizzò l'occhio. Perché a New York abita il mio migliore amico, Klondike McMouse. L'ho conosciuto quando giravo il mondo in cerca di notizie per l'eco del roditore. Quello che dovresti fare anche tu, invece di startene lì a scaldare la sedia! Ci ha invitato a trascorrere il Natale con la sua famiglia a casa sua. Abita in uno stratopico appartamento con vista su Central Park. Mi sventolò sotto il muso una lettera e una foto. Carissimo Torquato, come stai? Proprio in questi giorni ripensavo ai bei momenti trascorsi insieme, quando tu eri il direttore dell'eco del roditore, e di tanto in tanto venivi a New York in cerca di notizie e nuove idee per il tuo giornale. Ah ah ah! Che bei ricordi! In onore dei bei tempi passati, volevo invitare te e tutta la tua famiglia a trascorrere il Natale a casa mia, a New York. Spero di cuore che accettiate l'invito di un vecchio ma sincero amico. Con affetto, Klondike McMouse. Io protestai. Ma nonno, è così bello passare il Natale a casa mia, a Topazia. Ormai è una tradizione che si ripete da anni e... Lui sbuffò. Nipote, le tradizioni sono bellissime. Ma quest'anno si fa come dico io. Punto e basta. E poi tu stesso mi hai detto che è bello scoprire altre abitudini, altre culture, fare nuove esperienze e conoscere punti di vista diversi. Mille volti e tradizioni per un unico mondo. Io mi mangiai le zampe. Era proprio vero. La sera prima a cena ne avevamo parlato. In effetti, su questo hai ragione, dissi. Però il Natale a casa mia... Nonno Torquato, taglio corto. Niente da fare, nipote. Io ho già deciso. E comunque tutti gli altri parenti sono d'accordo. Scoraggiato, io mi rassegnai. Ah beh, se anche gli altri sono d'accordo, allora non dico più niente. Proprio in quel momento entrò tutta la famiglia Stilton al completo, gridando... Geronimo! Geronimo, hai sentito? Passeremo il Natale a New York! Partiremo domani! Domani! Io squittì a bassa voce. Sì, sì, ho sentito. Passeremo il Natale a New York! Che bello! È proprio una notizia entusiasmante! Poi, mentre gli altri facevano programmi per la partenza, chiacchierando allegramente, mi incamminai triste verso casa mia. Me ne andai a dormire presto e mi raggomitolai nel piumone. Ero deluso. Pensavo che forse, negli anni passati, non ero stato capace di organizzare bene il Natale a casa mia. Forse non avevo cucinato bene. Forse non avevo decorato bene la casa. Forse i miei regali non erano piaciuti proprio a nessuno. Insomma, forse era colpa mia se tutta la famiglia Stilton preferiva passare il Natale altrove. Rimuginando questi malinconici pensieri, mi addormentai... In viaggio verso la Grande Mela. La mia famiglia partì il giorno dopo. Io invece rimasi a Topazia fino al 23 dicembre, perché avevo tanti impegni di lavoro. Finalmente lasciai l'ufficio dell'eco del roditore, dopo aver salutato tutti i miei collaboratori, augurando loro un felice Natale. Corsi a casa e preparai i bagagli. Infilai gli abiti nella mia valigia gialla, fedele compagna di tanti viaggi in tutto il mondo. Per riconoscerla più facilmente dopo l'atterraggio, quando i bagagli vengono scaricati dall'aereo e distribuiti ai passeggeri, avevo attaccato alla valigia un'etichetta blu, con scritto sopra il mio nome e l'indirizzo. Nella valigia infilai anche tutti i regali per la famiglia Mac Mouse, che mi aveva affidato il nonno. Ci tengo a fare bella figura con i Mac Mouse. Guai a te, se dimentichi i regali di Natale! Mi aveva raccomandato. Andai all'aeroporto. Consegnai la valigia al check-in. La hostess la ritirò e mi sorrise. Ritroverà la sua valigia a New York, dottor Stilton. Porta pure tranquillo. Io ricambiai il sorriso e andai al gate, cioè alla porta d'imbarco del mio volo. Salii sull'aereo e così iniziò il mio viaggio. In volo lessi una guida turistica su New York e controllai anche sulla piantina dove abitava Mac Mouse. Una valigia gialla con etichetta blu. Finalmente, arrivai all'aeroporto John Fitzgerald Kennedy di New York. Era mattino e c'era una gran confusione. Quanti roditori che correvano avanti e indietro, che stavano per partire o erano appena arrivati. Dopo una lunga coda al controllo della immigration, mi affrettai verso il nastro trasportatore dove venivano scaricati i bagagli del volo 113 della Top Airlines, la linea aerea di Topazia. Non vedevo l'ora che arrivasse la mia valigia. Avevo voglia di andare subito a casa dei Mac Mouse per fare un bel bagno caldo e rosicchiare qualcosa di buono. Ero proprio stanco per il lunghissimo viaggio. Sbadigliavo in continuazione e stavo quasi per addormentarmi in piedi. Improvvisamente, però, spalancai gli occhi. Ecco la mia valigia gialla con l'etichetta blu. La acchiappai al volo e mi diressi verso l'uscita. Questa non è la mia valigia. All'uscita dell'aeroporto, chiamai un taxi, caricai nel bagagliaio la mia valigia gialla con l'etichetta blu e mi diressi verso la casa dei Mac Mouse. Quando arrivai a metà strada, mi accorsi di non avere il portafogli. Per mille formaggini stagionati! In tasca avevo solo il passaporto e la guida con cartina di New York. Avevo dimenticato il portafogli nella valigia. Chiesi al taxista di fermarsi per tirare fuori la valigia dal bagagliaio. Ma quando l'aprì, strabuzzai gli occhi. Per mille mozzarella! Quella non era la mia valigia. Dove erano finiti tutti i miei abiti? Mancavano anche i regali di Natale per i Mac Mouse. Nonno Torquato mi avrebbe triturato, zerizzato, panzerizzato, se non li avessi ritrovati subito. Gridai a squarciagola. Per mille formaggini stagionati! Ma questa non è la mia valigia! Il taxista sbuffò. A me non interessa. Basta che mi paghi. Io strillai disperato. Non ho un soldo! Il mio portafogli era nella mia valigia! Il taxista, dato che non lo potevo pagare, pretese la mia preziosa stielografica d'oro in pagamento del primo tratto già percorso. Non osai rifiutare, perché era grande e grosso e con dei muscoli da far paura. Cinque minuti dopo, lui chiuse di colpo la portiera del taxi. Poi ripartì sgommando. Io rimasi sul ciglio della strada, a metà percorso tra l'aeroporto e New York, e con una pesantissima valigia da trasportare. E per di più, quella valigia non era neanche la mia valigia. La valigia della signora A. Smith Mi sedetti sul ciglio della strada. Mi veniva da piangere. Non potevo neanche telefonare. Anche il mio telefonino era rimasto nella mia valigia. Poi mi feci forza. Dovevo assolutamente riportare quella valigia alla legittima proprietaria e farmi ridare la mia. Non doveva essere difficile. Così cercai di esaminarla meglio. È vero che era una valigia gialla come la mia e che aveva un'etichetta blu proprio identica alla mia, ma sull'etichetta c'era scritto Mrs. A. Smith, cioè signora A. Smith. Io ero disperato. Chissà quante signore Smith c'erano a New York. Non sarei mai riuscito a trovarla. All'interno della valigia c'erano abiti femminili, biancheria femminile, oggetti femminili per il trucco, e poi tanti libri e tante cartelline con studi su antichi reperti egizi. C'era perfino la radiografia di una mummia. La roditrice che aveva scambiato la valigia con me era un'egittologa, cioè una studiosa delle civiltà dell'antico Egitto. Improvvisamente sentì un trillo. Rovistai nella valigia e trovai un telefonino. Era il telefonino della roditrice che aveva scambiato la valigia con me. Era il suo telefonino. Io risposi emozionato. Pronto? È lei, signora Smith? Qui Stilton. Geronimo Stilton. Sì, sono io. Risposi a una voce femminile dall'altra parte. Lei ha la mia valigia, le dissi. E lei ha la mia. Ci vediamo a Columbe. Purtroppo però il telefonino si spense. La batteria si era esaurita. Nella valigia non c'era un caricabatterie e io non avevo i soldi per comprarne un altro. Mi dispiaceva frugare nella valigia. Non frugo mai nelle cose altrui. Ma questa era davvero un'emergenza. Rovistando trovai l'agenda della signora Smith. Ecco i suoi impegni per la giornata. Ore 10 Columbia University. Ore 11 Empire State Building. Ore 12 Times Square. Ore 13 Rockefeller Center. Ore 15 Museo di Storia Naturale. Ore 16 Ponte di Brooklyn. Ore 17 Statua della Libertà. Ore 18 Central Park. Ore 19 Columbe. E qui non riuscii più a leggere perché mi era caduta una lacrima di disperazione sulla pagina e si era formata una macchia. Provai a ragionare. Quando la telefonata si è interrotta lei stava dicendo Columbe? sicuramente mi stava dando appuntamento alla Columbia University alle 10 quindi se fossi riuscito a raggiungere l'università entro quell'ora avremmo scambiato la valigia e tutto sarebbe andato a posto. Fari nella nebbia. Passo dopo passo tremando per il freddo la mia giacca pesante era rimasta in valigia mi avviai verso il centro di New York le auto mi passavano vicino vicino quasi sfrecciando con i fari gialli che brillavano nella nebbia del mattino come gli occhi minacciosi di bestie feroci. Che paura che strizza che fifa eppure guardandomi intorno non potevo che restare affascinato che bella città era New York e quanto movimento la nevicata stava per finire ma per strada c'era una fanghiglia grigiastra in cui avanzavo trascinando la valigia e inciampando in continuazione più volte pensai di andare dai McMouse per chiedere aiuto ma mi vergognavo solo all'idea di dire al nonno che avevo perso tutti i regali per i suoi cari amici non posso dire al nonno che ho perso la valigia gridai piuttosto preferisco consumarmi le zampe a furia di camminare quando arrivai nel centro di New York ero conciato da far pietà infangato fino alle orecchie con la pelliccia inzuppata non mi lavavo dal giorno prima non mangiavo da ore e non avevo un soldo anche la cartina era completamente inzuppata ma guardandomi intorno vedi tanti grattacieli spuntare dal fiume e pensai però che bella città è New York troppe a.sbit alla Columbia University sempre a piedi perché non avevo i soldi per il metro raggiunsi la Columbia University che bella università quanti studenti correvano affaccendati su e giù per i corridoi mi rivolsi a una signora dalla bellissima pelliccia colorebano e le dissi buongiorno mi scusi posso chiederle un'informazione mi dica pure mi rispose non so se posso aiutarla io sono una professoressa di letteratura inglese sto cercando la signora Smith lei rise Smith ma lo sa che qui negli Stati Uniti è un cognome molto diffuso anzi il più diffuso lo so risposi allora mi dica almeno il nome non lo so so solo che inizia per A lei scosse la testa A come Anna A come Anastasia A come Anita A come Ada oppure A come Adelaide ma si rende conto di quante signore A Smith ci sono alla Columbia University ma lei da dove viene si capisce che non è di New York io mi misi a piangere sì mi rendo conto che è difficile anzi difficilissimo trovarla ecco perché adesso sto piangendo in Tenerita lei mi offrì una tazza di cioccolata e mi permise di andare a lavarmi le zampe e il muso nei bagni dell'università poi mi regalò una nuova mappa di New York e mi salutò buona fortuna ne avrà bisogno io consultai di nuovo l'agenda della misteriosa signora Smith e decisi che avrei cercato di incontrarla all'appuntamento successivo all'Empire State Building alle 11 ma come avrei fatto ad arrivare in tempo avevo solo un'ora e moltissima strada da fare su 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 sull'Empire State Building camminai a lungo sempre trascinando dietro di me la valigia gialla a un tratto vidi uno skateboard infilato in un bidone della spazzatura e mi venne un'idea lo poggiai in terra poi con cautela misi un piede sulla tavola per vedere se era ancora solida e borbottando tra me e me dissi chissà se potessi usar proprio in quel momento un passante inadvertitamente mi spinse la tavola sgangherata partì velocissima in mezzo alla folla io strillai in preda al panico aiuto pista la mia folle corsa continuò lungo la famosissima Broadway per un tempo che mi parve infinito poi svoltai per la trentaquattresima strada fino a incrociare la Fifth Avenue la quinta strada dove mi infilai all'interno di un raffinato aprio di marco ero arrivato all'Empire State Building mi rialzai e mi mimetizzai svelto in mezzo a una comitiva di turisti in visita su, su, su su con l'ascensore salimmo per 86 piani fino a raggiungere un'ampia terrazza panoramica mi affacciai e rimasi senza fiato che splendida vista sulla città ma io purtroppo non avevo tempo di ammirare a lungo il panorama dovevo cercare la signora Smith vedi accanto a me una roditrice con una felpa lilla e domandai scusi lei è la signora Smith feci la stessa domanda a una roditrice vestita di blu lei mi voltò le spalle ma come si permette la terza roditrice mi pizzicò una guancia no non mi chiamo Smith ma se vuoi chiamami così tuo pacchiottino mio bello io sussurrai mi scusi c'è stato un errore continuai a chiedere e a fare brutte figure ma alle 11 e 20 minuti non avevo ancora trovato la proprietaria della valigia così strillai fortissimo signora appunto Smith tutti si voltarono mormorando ma quello chi è ma da dove viene si capisce che non è di New York poi un custode mi prese per un orecchio e mi accompagnò al pian terreno per scaraventarmi fuori marmellata di topo a Times Square una folla di passanti mi guardò con aria di disapprovazione ma io feci finta di niente controllai l'agenda della signora Smith poi il mio orologio il prossimo appuntamento era a Times Square alle 12 se mi sbregavo potevo ancora riuscire a raggiungerla lì ripresi la Broadway e trascinai la valigia gialla della signora Smith più in fretta che potevo a un certo punto arrivai in una bellissima piazza piena di gente in movimento con grattacieli altissimi e moltissimi cartelloni pubblicitari di tutti i tipi mi trovavo a Times Square mentre stavo cercando di riprendere fiato dalla porta a vetri di un albergo uscirono due roditori con un'elegante divisa blu che srotolarono un lungo tappeto rosso strillando presto presto lei sta arrivando tentai di chiedere lei chi? chi sta arrivando? ma il tappeto mi travolse e mi mandò lungo disteso per terra poi finì di srotolarsi davanti alla portiera di una lussuosa limusine da cui scese un'affascinante roditrice bionda in un attimo si radunò una vera e propria folla tutti strellavano è lei è proprio lei la roditrice camminò lungo il tappeto sorridendo e firmando autografi a un tratto stava proprio per calpestarmi così strellai attenta alla coda io intendevo la mia coda ma lei si voltò e vide che la coda del suo elegante vestito era rimasta imprigionata nella portiera si chinò mi stampò un bacio sulla guancia e mi diede la rosa rossa che teneva in mano grazie mio eroe furbino che cosa ci fai al Rockefeller Center? in un attimo tutti mi furono addosso cercando di strapparmi la rosa è mia è mia è mia è mia è mia strillavano per difendermi dalla folla rimasi sotto il tappeto finché i due roditori in divisa non mi arrotolarono nel tappeto e mi portarono al sicuro nell'albergo poi sgattaiolai via mentre la gente commentava ma quello chi è? ma da dove viene? si capisce che non è di New York sembra che non abbia mai visto una star ma io non ci feci caso perché ero preoccupato con tutta quella confusione non ero riuscito a trovare la signora Smith ormai dovevo dirigermi all'appuntamento successivo il Rockefeller Center alle 13 ed ero in ritardo corsi come se fossi inseguito da un gatto inferocito ma arrivai in ritardo di 20 minuti ero senza fiato così mi sedetti sulla valigia gialla per riposarmi e quando alzai lo sguardo vidi l'albero di Natale più stratopico del mondo e una bellissima pista di pattinaggio affollata di roditori di tutte le età imbacuccati con abiti pesanti e buffi cappellini proprio in quel momento senti qualcuno farmi toc toc sulla spalla ehi tu furbino che cosa ci fai al Rockefeller Center non hai mai visto un albero di Natale? tutti commentarono ma quello chi è? ma da dove vieni? si capisce che non è di New York mentre la guardia mi trascinava via per un orecchio io strillai sto cercando la signora Smith che fifa felina al museo di storia naturale la gente mi fece una bella ramanzina a New York la gente non perde tempo seduta su una valigia si dia da fare mi ricordava mio nonno torcuato io mormorai imbarazzato scusi agente ha ragione ma guardai l'orologio era tardi sicuramente la signora Smith se n'era già andata così presi la valigia e andai verso il museo di storia naturale ma c'era un problema non avevo i soldi per il biglietto di ingresso come potevo entrare? per fortuna nell'atrio del museo trovai un carrello per le pulizie mi infilai nel bidone dell'immondizia e l'addetto alle pulizie mi trasportò all'interno del museo ma quando misi il naso fuori dal bidone brrrr che fifa felina un enorme teschio mi fissava non mi aspettavo di vedere un teschio di dinosauro così vicino a me cacciai un urlo scappai fuori dal bidone e mi precipitai in un'altra stanza strillando aiuto un mostro ma quando mi fermai in mezzo a una folla di turisti che mi guardavano increduli alzai gli occhi e vedi un enorme balena che sembrava cadermi addosso questo era davvero troppo svenni e dovettero rianimarmi con dei sali extra forti al parmigiano extra stagionato quando rinvenni senti le voci della gente intorno a me poveretto che fifone ma quello chi è ma da dove viene si capisce che non è di new york e se per caso crollasse il ponte di brooklyn povero me neanche lì ero riuscito a incontrare la signora smith usci dal museo mogio mogio controllai l'ora ormai dovevo dirigermi il più in fretta possibile all'appuntamento successivo così fermai un taxi e offri al taxista il mio orologio d'oro in cambio di una corsa quando fui a bordo mi raccomandai al ponte di brooklyn presto il taxista partì a razzo strillando yahoo finalmente un bel inseguimento come nei film io protestai ah scusi io sono un tipo anzi un topo molto tranquillo e per di più soffro il mal d'auto vada piano la prego ma lui continuò a correre zigzagando tra le auto dopo i primi dieci minuti ero pallido come uno straccio dopo venti minuti ero verde come una mela marcia dopo trenta minuti tirai giù il finestrino e il taxista infuriato mi scaricò strillando ma lei chi è? da dove viene? si capisce che non è di New York per fortuna eravamo già in vista del ponte di brooklyn era davvero incredibile e maestoso notai che era sorretto da enormi cavi d'acciaio mentre mi avviavo lungo la passerella pedonale pensai bello questo ponte ma se per caso un cavo si staccasse e se per caso si fossero dimenticate di controllare bene la tensione e se per caso proprio adesso un pilone cedesse e se per caso venisse un tornado insomma mi venne una fifa felina e quando mi trovai a metà del ponte strillai in preda al panico signora Smith dove è? mi salvi lei tutti gli altri roditori che si trovavano sul ponte mi guardarono con disapprovazione mormorando ma da dove viene? si capisce che non è di New York per fortuna arrivò una grande comitiva di turisti e io riuscì a mimetizzarmi ero paonazzo per l'imbarazzo che brutta figura Lady Liberty segui la comitiva arrivai a un pontile e salì sul traghetto diretto a Liberty Island purtroppo non avevo denaro per il biglietto in tasca ormai mi rimaneva soltanto una crosta di formaggio usata e un bottone così andai dal comandante del traghetto un roditore massiccio come un armadio e con due mani grandi come pale e gli confessai tremando che non avevo pagato il passaggio lui si fregò le zampe bene bene ti sistemo io cioè volevo dire ci penso io prendi quello spazzolone e lava il ponte fallo brillare se sarò soddisfatto non ti butterò in acqua e ti pagherò anche l'ingresso alla statua della libertà e il tuo giorno fortunato sorcio io mormorai sconsolato se lo dice lei poi iniziai subito a pulire quando alzai gli occhi rimasi senza parole vidi emergere dalla nebbia proprio lei la mitica Lady Liberty il simbolo di New York quando terminai di pulire il ponte brillava e il comandante soddisfatto mi diede un'amichevole pacca sulla spalla quasi me la slogò questa è l'America ragazzo vai sali sulla statua e guarda verso il tuo futuro io decisi di seguire il suo consiglio e mi avviai baldanzoso verso l'ingresso iniziai a salire i gradini che portavano in cima alla statua sempre trascinando la valigia gialla dopo cento gradini senti i battiti del cuore accelerare come un treno in corsa dopo duecento mi trascinavo sulle scale dopo trecento gradini chiesi a un'anziana e arzilla roditrice scusi quanto manca lei mi guardò con aria di commiserazione solo centosessantotto gradini perché gli altri dietro di lei commentarono che reuditore smidollato che scamorza ma che è quello lì ma da dove viene si capisce che non è di new york una vera scamorza avevano detto in un impeto d'orgoglio decisi di mostrare a tutti che so essere un vero topo così feci gli ultimi centosessantotto gradini di corsa quando arrivai in cima svenni abbracciato alla valigia central park mi portarono giù due custodi sempre abbracciato alla valigia gialla pensando che non sopportassi l'altezza così quando rinvenni mi ritrovai di nuovo ai piedi della scala non avevo proprio la forza di salire di nuovo e comunque si era fatto tardi un'altra volta ormai mi conveniva precipitarmi all'appuntamento successivo ore 18 central park non sto a raccontarvi tutto quello che dovetti affrontare per arrivarci lavai di nuovo il ponte di un traghetto per pagarmi il passaggio e camminai quasi due ore nella neve sempre trascinando la valigia gialla a un certo punto decisi di fare l'autostop ma si fermò solo un furgoncino che trasportava forme di formaggio andate a male non potevo fare lo schizzinoso così mi tappai il naso e salì a bordo che puzza tremenda arrivai a central park all'ora dell'appuntamento ma puzzavo come un bidone della spazzatura del porto di topazia mi consolai pensando che questa volta avrei sicuramente trovato la signora smith e ci saremmo scambiati le valigie mentre sognavo ancora a occhi aperti l'accoglienza di tutti i miei parenti un bel bagno pieno di schiuma cibi caldi una tavola imbandita fu investito da una comitiva di affascinanti e atletiche roditrici che facevano jogging cioè correvano mentre mi travolgevano sentii che dicevano ma chi è quello lì? ma da dove viene? si capisce che non è di New York io pensai pieno di ammirazione però queste new yorkesi che tipe toste fanno jogging con la neve poi svenni per la terza volta per le strade di New York quando rinvenni i vialetti di Central Park erano deserti avevo perso l'ultima possibilità di incontrare la signora smith e così vagabondai 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 per le strade di New York erano davvero meravigliose tutto era illuminato a festa e dovunque i roditori gridavano buon Natale buon Natale buon Natale cuori di topolini giravano per le vie cantando allegre canzoni natalizie jingle bells jingle bells e tanti babbi Natale si aggiravano per le strade vestiti di rosso lisciandosi la barba bianca e agitando campanelli buon Natale a tutti buon Natale a tutti gridavano con gioia buon Natale tanti cari auguri buon Natale tanti cari auguri tutti erano felici tranne me tutti stavano ritornando a casa per festeggiare con la famiglia tranne me tutti avevano un posto dove andare tranne me quando improvvisamente mi venne un'idea columb con una nuova speranza nel cuore ripresi in mano l'agenda della signora Smith mi misi sotto la luce di un lampione e osservai meglio la scritta dell'ultimo appuntamento che la mia lacrima aveva cancellato che cosa voleva dire columb ecco guardando con attenzione riusci a leggere qualcosa c'era scritto columbus circle mi guardai intorno per orientarmi ma io ero già a columbus circle era uno degli angoli di central park improvvisamente mi venne in mente che proprio a columbus circle abitavano i mcmouse non ricordavo l'indirizzo ma ricordavo come era fatta la casa in cui vivevano si vedeva nella foto che mi aveva mostrato nonno torcuato rassegnato decisi che l'unica cosa da fare era cercare la casa dei mcmouse sarei andato da loro a chiedere aiuto e avrei confessato al nonno che avevo perso la valigia con i regali girai e rigirai girai e rigirai girai e rigirai lungo columbus circle finché finalmente riconobbi il palazzo dove abitavano i mcmouse era un enorme grattacielo lussuoso illuminato scintillante di specchi vetri e luci camminai timidamente sul tappeto rosso che portava all'ingresso appena entrai mi accolse una ventata d'aria calda come si stava bene lì dentro il portiere era un ratto alto e muscoloso vestito di rosso con le spalline dorate e un cappello con la visiera dandosi grandi arie mi urlò sul muso e tu chi sei? io tentai di sembrare dignitoso e risposi sono un ospite della famiglia mcmouse lui fissò la mia pelliccia inzuppata i miei abiti infangati la valigia sporca il mio muso disperato e sbuffò figuriamoci uno come te dai mcmouse io insistetti per cortesia può avvisare i mcmouse che sono arrivato? il mio nome è stilton geronimo stilton vengo da topazia geronimo chi? e dove sarebbe topazia? io insistetti gentile ma fermo il mio nome è stilton geronimo stilton sono il direttore dell'eco del roditore lui rise a crepapelle tenendosi la pancia tu saresti il direttore di un giornale allora io sono il presidente degli stati uniti io tirai fuori un biglietto da visita tutto inzuppato su cui comunque si leggeva ancora ecco del roditore geronimo stilton direttore responsabile via del tortellino 13 13 13 13 topazia può avvisare la famiglia mcmouse per cortesia grazie lui citofonò ai mcmouse tenendomi d'occhio e borbottando c'è qui un roditore male in arnese che dice di chiamarsi geronimo stilton e di venire da topazia dice che lo state aspettando ma poi annui con aria stupita devo farlo salire subito lo state aspettando davvero ah beh allora di malavoglia si tolse il cappello e si inchinò prego signore può prendere l'ascensore e salire fino al trentaquattresimo piano la signora ha appunto smith io zampettai stancamente fino all'ascensore neanche l'idea di aver perso i regali e di dover affrontare il nonno mi preoccupava più ero troppo stanco troppo affamato troppo disperato salì sull'ascensore e premetti il tasto del trentaquattresimo piano mentre l'ascensore saliva io preparavo il discorso con cui avrei spiegato tutto a mio nonno e ai mac mouse finalmente le porte dell'ascensore si spalancarono mi ritrovai in un'immensa anticamera arredata con mobili eleganti era affollata di tanti roditori che sorridevano tra tanti musi spensierati e allegri notai quello di mio nonno io mi gettai in ginocchio nonno ti prego perdonami ho perso la valigia con tutti i regali per i mac mouse una voce femminile gridò ma che i regali per i mac mouse sono qui una roditrice giovane bionda simpatica avanzò verso di me trascinava una valigia gialla proprio come la mia attaccata alla valigia c'era un'etichetta blu proprio come la mia con scritto geronimo stilton ma allora era la mia valigia io gridai ma 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 per mille mozzarella lei è la signora appunto smith lei ridacchiò sì io sono la signora a smith e tu sei geronimo stilton vero io risposi stupito sì io sono stilton geronimo stilton ma che cosa ci fa lei qui a casa dei mac mouse lei sorrise io sono annabel mac mouse smith sono la figlia di klondike mac mouse ma ho sposato coconut smith un roditore dalla pelliccia scura e dall'aria simpatica si fece avanti piacere io sono coconut smith suo marito benvenuto geronimo è da stamattina che ti stavamo aspettando io ero stupefatto come mi aspettavate da stamattina non capisco chiesi stupito mio nonno si fece avanti ma sì nipote quando la figlia del mio amico klondike è arrivata qui a casa e ha aperto la valigia si è accorta che non era la sua ma io l'ho riconosciuta subito era la tua valigia così annabel ha tentato di telefonarti dicendoti di venire subito qui a columbus circle io mormorai eh già columb non era la columbia university ma columbus circle nonno torquato proseguì purtroppo la batteria del telefono si è scaricata così la telefonata si è interrotta a metà e noi ti abbiamo aspettato tutta la giornata finalmente sei arrivato nipote in tempo per la cena di natale io chiesi ad annabel ma perché nella tua agenda avevi segnato tutta quella lista di appuntamenti ogni ora in un posto diverso di new york lei sorrise perché pensavo che oggi ti avrei accompagnato a visitare new york facendoti vedere i luoghi più interessanti della città ma a quanto pare li hai già visitati per conto tuo io risi tutto è bene ciò che finisce bene annabel così diversi eppure così simili mentre festeggiavamo tutti insieme il natale tutti i mcmouse e tutti gli stilton io mi affacciai dalla grande finestra che dava su central park lontano 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 gli alberi sfumavano all'orizzonte soffusi di una nebbia che donava al parco un'atmosfera magica i candidi fiocchi di neve cadevano a terra turbinando e volteggiando lievi sulle ali del vento quei fiocchi mi ricordarono topazia la neve che cadeva sui roditori di topazia e sui roditori di new york era la stessa come uguali sono le cose che davvero contavano tutti abbiamo lo stesso cuore che batte nel petto e che in fondo chiede una sola cosa felicità mi girai verso tutti i roditori che c'erano nella stanza spalancai le braccia e dissi buon natale a tutti voi cari amici di ieri e di oggi la vita è bella il mondo meraviglioso e io voglio bene a tutti che c'erano che c'erano che c'erano